Saranno circa 20 pullman che partiranno dalla Basilicata diretti a Roma dove è stato organizzato il Family Day per dare voce ai tanti che vogliono manifestare contrarietà all'equiparazione delle unioni civili con il matrimonio alla possibilità di fare adozioni da parte dei gay all'utero in affitto. Circa mille lucani che hanno deciso di aderire all'iniziativa e tra questi i consiglieri regionali Luigi Bradascio, Aurelio Pace e Achille Spada. In una conferenza stampa a potenza nella sede del parlamentino lucano i consiglieri hanno spiegato i motivi dell'adesione all'iniziativa che serve come hanno spiegato a manifestare la necessità di una politica più attenta ai diritti delle famiglie. Noi riteniamo che sia una grande occasione di confronto, una grande festa di popolo come si usava a dire una volta in cui la stragrande maggioranza degli italiani diranno che occorre decisamente voltare pagine e avviare delle risolutive politiche a favore della famiglia. L'affermazione di un'opzione culturale è cercare di affermare che ci sono dei diritti non negoziabili, che c'è una concezione del mondo, della storia, della vita che è plurima in questa società e credo sia arrivato il momento in cui ognuno affermi le proprie convinzioni. Sono felice che questa piazza sia nata ancora una volta dalla volontà di associazioni, di comitati, di persone che si organizzano attorno a un'esigenza, una difesa, si chiama difendiamo i nostri figli e non da sigle. Alcune parole che sono state in qualche modo il tentativo di strumentalizzazione di alcune parole, di alcuni enti morali come la CEI, come il Papa stesso, sono state chiarite e siccome diceva Churchill se non puoi convincerli confondi, c'è qualcuno che gioca confondendo, gli piacciono le piazze semivuote e siccome il contenitore fa sempre un milione, noi vorremmo provare a farlo veramente quel milione.